Presidente, l'Inps non si occupa solo degli attuali pensionati ma anche di quelli futuri. Cosa possono fare le nuove generazioni per avere una pensione più remunerativa? Devono innanzitutto confrontarsi con il nuovo sistema, il cosiddetto sistema contributivo, ovvero ogni persona versa i contributi e sarà quella la base di calcolo per la propria pensione. Quindi mai come oggi è importante lavorare in modo regolare e soprattutto controllare periodicamente il proprio stato contropervidenziale. Quindi sarebbe meglio fin da subito iniziare a versare i contributi magari riscattando la laurea? Assolutamente sì, c'è questa modalità nuova ovvero finita l'università, ancora prima di lavorare si possono cominciare a versare i contributi per il periodo di laurea senza interessi e in dieci anni e addirittura è detraibile o deducibile a secondo di chi paga. Uno strumento eccezionale per cominciare ad accumulare contributi per la propria pensione. Grazie a tutti.